Il 19 aprile 1943 comincia la rivolta del Ghetto di Varsavia. Il Ghetto di Varsavia era il quartiere in cui già mesi prima, nel 1942, per ordine di Heinrich Himmler, i nazisti che occupavano la Polonia e mezzo a Europa rinchiudono decine di migliaia di ebrei residenti in Varsavia e cominciano a vessarli, a perseguitarli e ad ucciderli. Nell'aprile 1943 comincia questa rivolta, si organizzano dei gruppi ebraici, varie organizzazioni partitiche, militari ebraiche e cominciano a reagire rispetto all'occupazione tedesca e alle vessazioni tedesche. A guidare la rivolta è un leader che si chiama Mordecai Annelievitz, detto Piccolo Angelo, e poi Marek Edelman, il quale l'avrebbe raccontato in alcuni libri tradotti anche in italiano. La rivolta purtroppo, dopo un mese circa di combattimenti, si conclude con la sconfitta, come in un certo senso era inevitabile, degli stessi ebrei che vengono uccisi sul posto 13.000 vittime e molti altri deportati nel vicino lager nazista di Treblinka. È una rivolta che è rimasta nella memoria come un tentativo, il primo tentativo ancorché sfortunato, di reagire alla dittatura e alla ferocia nazionalsocialista. Ed è stata immortalata da un grande film di Roman Polanski con Adrien Brody, il titolo è Il pianista, vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes e vinse anche tre Oscar, che racconta, lasciandosi scandire dalle magnifiche musiche di Chopin, la disperazione ma anche il riscatto di quell'episodio lungo che rimane nella storia d'Europa come una pietra luminosa. Grazie a tutti.